Da che cosa vi state separando in questo tempo? Quale separazione temete o quale state vivendo o quale avete appena vissuto? Quale non vorreste vivere e magari potete affrontarla invece? Ma alla maniera dei grandi misteri, trattenendo l'essenza, perché anche qualcuno muore e tu dici non c'è più. No, non è esattamente così, è uscito dallo spazio-tempo, certo, non è in questa dimensione, ma qualcosa della sua essenza può, deve forse, rimanere o rimane comunque anche se nessuno se ne cura. Può essere in tanti modi, può essere in tante cose. Allora ecco, il primo invito è questo, pratichiamo questo primo passaggio. È nel semestre oscuro che si mettono i germogli, o meglio si seminano i germogli della primavera e quindi non soltanto accogliete la separazione, la morte, la discesa agli inferi traendone un'essenza, ma fate che questa essenza produca in voi una nuova gestazione di che cosa? Di voi stessi evidentemente. Fate che voi adesso possiate iniziare una gestazione di voi stessi, che certo voi vedrete compiuta e manifesta a primavera, ma parte adesso e se non la fate adesso, a primavera è abortiva. Il semestre oscuro, il semestre oscuro è ricchissimo. Che brutto, non c'è più la luce, non possiamo che aspettare. No, l'attesa è il grande segreto. Bisogna attendere perché, per esempio, una pianta faccia il macerato giusto. Bisogna esporla alla luna, esporla al sole, a una certa ora, in un certo giorno. Bisogna sapere attendere. Anche per una guarigione. Bisogna preparare il terreno. Quindi il secondo passaggio è che cosa volete che rinasca a primavera attraverso questo passaggio oscuro. E poi il passaggio un pochino più, se volete, più concreto è anche che cosa mettete nel ventre, cioè che cosa mangiate. Ovviamente a me non interessa dal punto di vista calorico, non sono una nutrizionista, non sono a occuparmi degli aspetti più pesanti, più densi di questa materia, ma mi interessa il versante simbolico. E se il versante simbolico guidasse il modo di alimentarsi, io sono certa che ci sarebbe anche molto meno bisogno delle diete. Perché il versante simbolico porterebbe a dire che in un tempo di separazione, in un tempo di morte, che cosa si fa? Ci si separa anche da qualcosa. Quindi si lasciano certi cibi, perché è un tempo di drenaggio. Bisogna fare sì che qualcosa si detossifichi dalla grande, dal grande banchetto estivo. E arrivano dei frutti. E quando arrivano certi frutti, in qualche modo ci si deve chiedere perché arrivano. Pensate al melograno. La mora di rovo, che andrebbe secondo la tradizione celtica consumata soltanto nella prima parte di questo passaggio, perché poi diventa col suo nero totalmente possesso della parte oscura. Andate a prendere il melograno. Apritelo e che cosa vedete nel melograno? Vedete che ci sono tante porzioni che sono contornate da una specie di pelle bianca, che è quella amara. L'amaro della separazione. Ma dentro, in quella pelle, ci sono tanti chicchi che sono tutti uniti, perché molti sono uno. Tutto è uno. Dunque ci si separa, ma non ci si separa mai. Se c'è il rosso del cuore, del sangue, che circola. Dunque ci si separa, ma non ci si separa mai.